La punizione, quattro uomini vicini al pallone Vediamo Campisi, Greco Traversa di Greco, bella randellata di Greco Traversa piena, portiere battuto Quasi otto minuti di gioco Anche Bruni davanti per saltare Con Moreo, Greco, bel pallone tagliato Rete, 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 despa Fermato, fermato, fermato Fermato per il fuorigioco Eravamo coperti, non abbiamo visto il collaboratore Sulla fascia sotto le tribune alzare la bandierina I giocatori che chiacchierano molto Si sentono tutte le voci Bel pallone schizzato da Moreo Corno, corno, corno in area, corno! Con i piedi si butta e salva la rete in vernizi Altra palla goal Campisi Ferrari Lo ferma e lo evita Federico Corno ma pallone troppo veloce Ancora dalla bandierina Despa e Bruni Anche loro Al centro dell'area ospite Lombardi Palo, palo 30 metri Conclusione di Lombardi